bella a tutti ragazzi un salto da method allora oggi siamo qui per farvi vedere una curiosità praticamente del gioco non è una cosa molto come dire molto importante cioè solamente beh forse però no io ve lo faccio vedere per correttezza perché c'è anche questa cosa qui quindi penso che sia giusto si è giusto farvela vedere allora intanto prendiamo volevo parlare un po' di questo pozzo che tanti di voi all'inizio hanno visto e hanno detto cazzo me come faccio a raggiungere le cose che ci sono sotto proprio all'inizio di qua allora ci sono essenzialmente due modi per prendere le cose e sono uno anzitutto andare a parlare con shalkwoyer il tenero e acquistare da lui per 13.400 anime l'anello d'argento del sono qua del gatto oppure avere come quelle che ho io io ho quelli del santuario però ce ne sono tanti altri che praticamente vi permettono di ecco vedete tipo la falda del leone riduce i danni da caduta ok? dovete equipaggiarvi il massimo sarebbe avere sia l'anello del gatto che un paio di pantaloni che vi permettono di attutere le cadute poi se non siete ancora andati al picco terrestre quindi non potete comprare da gilwan, come cazzo si chiama un attimo eh? da gilie, giligan, giligan, ecco da giligan la scala allora dovete per forza di cosa fare questa cosa qui? allora innanzitutto controllate bene dov'è e poi dovete ok scendere lentamente abbiamo avuto la vitale radiosa ok questa è andata vita di parros giù un attimo che mi curo ecco viene la parte più difficile che è questa dovete compiere un salto lì attaccati alla parete come ho fatto io perché è abbastanza incasinato dopodiché da qua tac qui vi faccio vedere ecco appunto c'è la tomba dei santi c'è l'ingresso alla tomba dei santi ok? però potete anche fare un'altra cosa allora essenzialmente porca lacca mannaggia eh spero di farcela ragazzi perché è veramente difficile uh ce l'ho fatta ecco potete fare questa cosa però attenzione perché veramente vi toglie una cifra una cifra eh di vita anello dell'occhio malvagio più vi toglie una cifra di vita e poi siete subito qui ok in questa zona qui vi faccio vedere cos'è allora attenzione dovete avere tanta vita e io tenete conto che ho sia l'occhio del gatto che eh è l'occhio del gatto buonanotte l'anello del gatto che è un'altra cosa che eh l'altro anello eh io non ho ancora capito come faccio a recuperare quello e vi trovate in questa zona ok e attenzione perché c'è ci sono questi qui e sono abbastanza cazzuti perché praticamente esplodono ecco e poi ci sono questi qua che sono fortissimi questi spiriti oscuri qui attenzione perché sono bastardi dentro esatto attenzione perché c'è quello che è come avete visto vi spanna vi spanna le quelle cazzo di cappuccio sud dicevo il grembo l'anello della protezione spirituale vabbè resina carbonizzata si vabbè questo lo fate abbastanza fuori abbastanza facilmente con con questa qui con l'anima risonante migliorata ah no era miracoli malocchi vabbè che cazzo mi ha lanciato che sono così lento dai come è possibile che mi sia scappato porco cara non è possibile tutte le salte volte anima di grande eroe sante tutte le salte volte cavacca dai che palle guardigione migliorata ok ora vi faccio vedere l'entrata per lo scolo se si muove forse il mio personaggio eccola qui questa è l'entrata per lo scolo hop vedete qua se avete anche il lano del gatto potete anche fare hop vedete tutti questi salti qua così senza stare a mi sa che da qua no però mi mi infogno cioè mi infogno mi muoio mi si mi devo vasto no eh beh fantastico qui non c'era mica anche un ah eccolo qui si ripristina anche questo ragazzi non mi ricordo quella c'era dentro segno di rancore ah interessante il segno di rancore quindi respanano i segni di rancore figata un attimo che vado e voilà non so se ha ripristinato essenzialmente le robe dello scolo però come potete vedere siamo allo scolo eh I want you vabbè ragazzi bella a tutti alla prossima spero di esservi stato utile vi ho fatto vedere come arrivare alla tomba dei santi e allo scolo ovviamente è molto difficile nel senso che dovete proprio avere già trovato già comprato l'anello del gatto almeno e avere un bel po' di vita detto questo bella a tutti ragazzi alla prossima ciao ciao